Meno male che da piccoli non avevamo capito questo episodio di Tom e Jerry Jerry sbuca fuori della tana mentre Tom dorme vicino al camino ma si accorge di lui A quel punto sale su un tavolo e si nasconde dietro una candela Tom prende un coltello proprio mentre Jerry sta per allungare la mano su un biscotto e gli riesce a colpire la mano A quel punto scatta l'inseguimento e mentre Jerry va su per le scale Tom decide di tirare giù il tappeto portandosi dietro un enorme pianoforte Mentre lui cerca di scappare comunque viene spiaccicato contro muro e lì finisce per perdere la vita E non è neppure la parte peggiore e più triste perché a un certo punto compare una scala mobile dorata Che porta Tom direttamente in paradiso verso la stazione ferroviaria che porta a paradiso dove vanno tutti i gatti che sono morti Se ancora non l'hai fatto ricordati di mettermi un like e seguirmi A un certo punto da un sacchetto escono i tre gattini che vediamo spesso in altri episodi sgocciolanti d'acqua Molte persone hanno pensato che questi tre gattini fossero stati chiusi dentro un sacco E buttati all'interno di un fiume da qualcuno che non li voleva più